Adesso non ci sono più ostacoli formali e sostanziali, da un punto di vista formale perché l'impresa sottoscrivendo questi atti aggiuntivi derivanti da questa perizia di variante in cui ci ha portato via effettivamente un bel po' di tempo, si è assunta degli impegni diciamo cogenti, forti, da un punto di vista sostanziale non ci sono impedimenti perché ormai l'area è libera, abbiamo la consistenza, la percezione di tutto ciò che c'è nel sottosuolo per cui i lavori possono iniziare, anzi devono iniziare a brevissimo. Il progetto non cambia nella sua sostanza, insomma rimane più o meno quello che era stato annunciato? Il progetto è quello da un punto di vista viabilistico, prevede uno spostamento del centro della rotatoria, una piccola traslazione di alcune decine di metri verso il campo scuola ma poi la rotatoria avrà lo stesso raggio del progetto, ci sarà comunque l'asse principale che sottopassa. Questo spostamento è quello che poi è stato derivato dal fatto che si è tentato di lavorare per diminuire gli impatti sia sulla circolazione in corso d'opera perché comunque questa è una cosa importante, è un nodo stradale importante quindi evitare troppi disagi e poi per limitare l'impatto sui sottoservizi e sottosuolo e solo per questo, un fatto puramente diciamo tecnico. Su via Fabio Filzi invece? Beh, anche lì la situazione diciamo è un po' in stand by nel senso che per tutte altre ragioni, so che proprio stamani c'è un incontro con l'ATI perché è un raggruppamento temporaneo di operatori economici con il RUP proprio per dirimere la questione di come mai circa un mese, un mese e mezzo che i lavori sono fermi da quello che mi riportano agli uffici ci sono dei problemi di relazione, dei problemi di rapporti tra i vari membri del raggruppamento temporaneo non so a che cause dovute però di fatto l'effetto che noi stiamo vivendo è quello che c'è un rallentamento anzi ora c'è una stanza di lavori per cui spero che stamattina la cosa si risolva perché se no anche lì dovremo procedere con le carte bollate.